come ti chiamo? come ti chiamo? Maria? come ti chiamo? incontrata come ti chiamo? come ti chiamo? come ti chiamo? mio io con... mi? come ti chiamo? mio compagno come ti chiamo? Andrea e stai c'è un nome di cui è vicino io non aspetto io sono il diritto un sorprendente che è un senso ha avuto una persona di un certo presenza di un gioco e in realtà fosse un senso e in realtà anche da che di esempio prima persona non c'è l'espo, non c'è l'espo, non c'è l'espo, non c'è l'espo, non c'è l'espo.